Il filone d'inchiesta sulle presunte false fatturazioni della vecchia Banca Etruria passa dalla procura di Arezzo a quella di Roma. In questo filone d'inchiesta sono indagati l'ex presidente dell'Istituto di Credito Aretino, Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi, l'ex presidente della finanziaria romana Materius Fabio Palumbo e l'ex amministratore delegato della stessa Ernesto Meocci. La decisione del gruppo di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli, che questa mattina era chiamato a decidere sul rinvio a giudizio, è arrivata a mercoledì mattina. Adesso gli atti passano alla procura a Capitolina come richiesto dalla difesa degli imputati. Sentenza di incompetenza territoriale, tutti gli atti vanno alla procura di Roma. Il giudice ha deciso in conformità alle nostre richieste. Sempre mercoledì mattina il pool di magistrati coordinati dal procuratore capo Roberto Rossi avrebbe dovuto iniziare ad ascoltare le testimonianze di parte dei membri del vecchio CDA della Popolare dell'Etruria, raggiunti dall'avviso di chiusura indagini riguardanti il filone d'inchiesta per la banca rotta fraudolenta. Ma è saltato il primo interrogatorio, quello di Augusto Federici, l'ex amministratore delegato di Stacci e consigliere di Banca Etruria. L'indagato aveva infatti fatto pervenire la rinuncia al procuratore Rossi. Per la prossima settimana sono previsti gli altri quattro interrogatori. I restanti indagati invece avrebbero optato per l'invio di memorie in procura.